E' bella a tutti ragazzi venuti con questi nuovi video, sono qui dietro salati e oggi siamo su PKXD Ragazzi voglio cambiare skin, no perchè sono sponato a cosa? Ok, vediamo cosa c'è Capelli, ritorniamo con quelli blu Vestito, 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 questi no perchè costano un botto, questo, che questo da schienetro ci sta Anche questo che vi ho scelto, come cappellino ovviamente Oh, devo trovare qualcosa, eccoli, però costano 5.000 Troppo, sono questi che ho scelto, questo non è carino eh Questi sono tutti Questa Troppo, questo Questa 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 Poi Vedete questo Oh, ok ragazzi, questa è la mia skin Spero che vi piaccia Oh, un palloncino Oh, un palloncino Oh, un palloncino Oh, lo prendo Oh Ragazzi voglio un po' lavorare in pizzeria Mi voglio fare qualche soldo Mi voglio fare qualche soldo Facciamo 5 5 giri Sì dai 5 giri ci stanno Ah, devo comprarmi il mio energy drink Così io faccio un infetto Allora, questo Poi Dove è l'altro E vabbè dall'altra parte del mondo è lì Dai ancora 30 secondi per fare 3 stelle 3 stelle Ok Vabbè, manca l'altro dell'altra parte del mondo No, 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 no Mi mancano 20 secondi Oh, mi sa che è già scaduto il tempo No Poi Sììììììììììììììì Mettiamo il mio altro cagnolino Cioè, cagnolino giù che cagnolino sarebbe un cavallo se... Death Dovrebbe essere un cavallo Un bel cavallino Eccolo qua Cavallino Come l'ho chiamato? Cavallino Diamone il nome Cavallino Eccolo qua Cavallino Oh Che bello Ok Andiamo a fare un altro lavoretto in pizzeria L'ha finito cavallino? Vabbè Lo cercherò dopo Li devo prendere gli energy drink Questa volta Appena sono dentro Li devo bere Fai Fai Posso fare ancora 4 giri E facciamo 4 Ok via via Cos'è? Non posso adesso Te lo dico dopo Te lo dico dopo Faccio così Allora Te Te E poi chi? No Vabbè ciao ma dove sei? Dall'altra parte dell'universo pure te? No Aspetta Eh peccato Eh peccato Vabbè No Anche Penso che Posso anche Dai fermiamoci qua Mi mangio un bel gelatino Mangio Non belle le ali Ragazzi se volete essere miei amici su PKXD mi chiamo Pietro Cava E niente Vediamo qua cosa posso fare Che Sarebbe bello così Però Vorrei avere la casa Vorrei Vabbè Vediamo 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 Sono flying tutti Ma questi sono tutti quelli che ti ho chiesto l'amicizia Mamma Mamma No cosa posso fare Allora Io onestamente vorrei Arredare Un po' la cucina No la cucina è già piena Cioè ragazzi Non so cosa arredare Cioè Cosa posso fare Posso mettere questo Forse Sì Cioè Cioè ragazzi Non so Non ho parlato Non ho parlato Di una cosa Volevo vedere come metterla No Cioè Vabbè Non modifichiamo niente Spero che vi vedete tutto Vi ricordi di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale con la campanella in attiva E ciao Guarda Guardate Ciao 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 Ciao